Buonasera a tutti, benvenuti all'ultima conferenza per quest'anno dell'Area aperta che, come molti di voi sanno, è un'iniziativa che da una decina d'anni vede il CNR ad aprirsi alla cittadinanza per delle conferenze che sono prettamente di divulgazione scientifica. La conferenza di oggi sarà tenuta dalla dottoressa Paola Tognini. Paola ha un curriculum di tutto rispetto, maturato negli ultimi dieci anni perché si è laureata in CTF nel 2008, poi ha fatto il dottorato alla scuola normale, dopodiché è andata negli Stati Uniti per più di quattro anni a Irvine in California, è rientrata grazie a una borsa della comunità europea che favorisce il rientro dei cittadini europei che hanno lavorato all'estero, hanno fatto ricerca all'estero per un periodo che è intitolata Amari Curie. Nel 2019 ha vinto il premio L'Oreal per le donne e la scienza, è stata una delle sei ricercatrici a cui è stato assegnato questo premio e dall'ottobre 2019 è ricercatrice all'Università di Pisa. Paola ha pubblicato molti lavori importanti sulle massime riviste internazionali, ma per me che la conosco da quando è entrata a fare la tesi all'Istituto di Neuroscienze, quello che è più rilevante di Paola sono le sue doti umane che fanno sì che lei sia anche una ricercatrice di altissimo livello. Paola ha un'intelligenza vivace, tenace, generosa e rigorosa allo stesso tempo e non ultimo ha un meraviglioso sorriso. Buon divertimento. Grazie Carmela per questa introduzione che penso sia stata la più gentile che mi sia mai stata fatta fino adesso. Vi ringrazio per avermi invitato a fare un seminario ad aria aperta e tutti voi che stasera siete venuti. Oggi vi parlerò di come il microbiota influenza il cervello e quindi alla fine il nostro comportamento. Alzi la mano chi di voi ha mai avuto la sensazione di avere le farfalle nella pancia? Avanti più o meno tutti siete stati innamorati quindi mi immagino che siete semplicemente timidi e non lo volete ammettere. Oppure chi è che ha mai avuto quella sensazione un po' di ansia magari prima di dare un esame? Simo di sicuro prima di vedere il risultato di un esperimento. Bene mi immagino che tutto ciò da voi venga considerato come un'emozione ma in realtà queste emozioni vengono diciamo tradotte nel vostro intestino o nella vostra pancia. È per questo che si parla di avere una sensazione di pancia, avere le farfalle nello stomaco oppure mi sento tutta un'ansia e ce l'ho proprio qui a livello della pancia. Ma perché questo accade? Questo accade perché esiste un sistema di comunicazione bidirezionale tra il nostro cervello e il nostro intestino. Questo sistema è caratterizzato da diversi rami, abbiamo il sistema nervoso autonomo con branche afferenti e deferenti, abbiamo il cosiddetto asse ipotalamo ipofisi surrene e inoltre dovete ricordarvi che all'interno dell'intestino stesso c'è un secondo sistema nervoso che viene detto sistema nervoso enterico e addirittura si parla dell'intestino come di un secondo cervello e questo sistema nervoso enterico contiene circa 200 milioni di neuroni. Quindi quello che succede è che c'è un continuo scambio di informazioni tra l'intestino e il cervello, il cervello e l'intestino e di conseguenza quello che fa l'intestino non è altro che tradurre le nostre emozioni di felicità, di paura. Fino a qualche anno fa si parlava di asse intestino e cervello. Attualmente abbiamo un nuovo protagonista che è entrato a far parte di questo asse e viene definito microbiota, quindi oggi non parliamo più di asse intestino e cervello ma di asse intestino, microbiota e cervello. Voi vi chiederete che cos'è il microbiota? Bene, il microbiota intestinale non è altro che quello che in passato veniva definito microflora. Il microbiota intestinale è la popolazione, la comunità di batteri ma non solo di batteri, anche altri microrganismi che possono essere virus, funghi, lieviti, che popola il nostro tratto gastrointestinale e vive in simbiosi con il nostro organismo. In simbiosi significa che c'è uno scambio mutualistico, ossia noi facciamo qualcosa per loro e loro fanno qualcosa per noi. Oggi vi parlerò di microbiota intestinale, tuttavia voglio ricordarvi che in realtà non esiste solo un microbiota intestinale, ma il microbiota è presente su tutte le superfici del nostro corpo che sono a contatto con l'ambiente esterno e sulla maggioranza delle superfici mucose. Quindi potete immaginarvi che avete una popolazione di microrganismi che vive su tutta la vostra pelle e quello viene definito appunto il microbiota dell'epidermide. Avete un microbiota all'interno del cavo orale e è importante per mantenere la vostra igiene orale, quindi per evitare che si formino le carie ai denti. Vi è un microbiota a livello della cavità vaginale, vi è un microbiota nei vostri polmoni, tuttavia il più ricco e il più studiato è proprio il microbiota intestinale. E se guardate al microbiota intestinale posso assicurarvi che rimarrete svalorditi. Infatti la nostra flora intestinale contiene decine di trilioni di microrganismi. Abbiamo circa mille specie batteriche e provate a immaginare quanti sono i geni che vengono codificati da questi batteri. Sono addirittura 3 milioni. Se qualcuno di voi ha in mente quanto è il potenziale genetico dell'uomo, più o meno sapete quanti sono i nostri geni? Avete un'idea? Qualcuno ha un'idea di quanti siano? Intorno diciamo a 25 mila direi. Ecco questi batteri insieme codificano 3 milioni di geni, quindi il loro potenziale genetico è molto molto superiore a quello dell'uomo. A questo punto gli scienziati si sono chiesti, ok abbiamo due chilogrammi di batteri intestinali, a qualcosa serviranno? Infatti era stato definito come un organo dimenticato. Quali sono le principali funzioni del microbiota intestinale? Diciamo che il microbiota intestinale agisce andando a garantire l'omeostasi della maggior parte delle nostre funzioni corporee, ma sicuramente è molto importante per lo sviluppo e il mantenimento del sistema immunitario. Inizialmente è stato proprio studiato da un punto di vista immunitario. Infatti quello che fanno i nostri batteri e microorganismi intestinali insegnano al nostro sistema immunitario quali sono i batteri buoni, quindi che non devono essere attaccati, e quali sono invece batteri patogeni. Inoltre aiutano anche a mantenere tutte queste funzioni, non solo nel suo sviluppo. Inoltre sono importanti per mantenere l'integrità della barriera intestinale. Potete immaginarvi che con il cibo introduciamo tutta una serie di organismi estranei all'interno del nostro organismo e l'intestino, il tratto gastrointestinale, hanno bisogno di avere una barriera solida per impedire che si abbia un'elevata permeabilità e quindi, per esempio, il rilascio di citochine o altri fattori infiammatori che potrebbero quindi andare a creare infiammazione o addirittura setticemia. Ecco, parte del microbiota intestinale funziona proprio in questo modo, ossia va a sintetizzare del muco che fa sì che la barriera intestinale venga mantenuta integra. Importante, molto importante, è la funzione metabolica e questo è il secondo motivo per cui il microbiota intestinale è diventato famoso. Il microbiota quello che fa è ci aiuta a digerire gli alimenti e in particolare quello che fa è estrae energia dagli alimenti. Vi potete immaginare che ci sono degli alimenti come le fibre alimentari, sapete bene che l'insalata, noi non riusciamo da soli a distruggere queste fibre alimentari e poi gli saccaridi complessi attraversano il nostro intestino e rimangono ingeriti finché non arrivano al livello del colon dove incontrano il microbiota intestinale e a questo punto il microbiota tramite una serie di reazioni chimiche riesce a suddividerli in pezzettini più semplici e quindi permette l'assorbimento. Non vale soltanto per il cibo che non riusciamo a digerire, il microbiota è importante per l'assorbimento delle vitamine, agisce in certi step nella sintesi di vitamine che sono fondamentali per il nostro organismo, agisce per esempio anche sugli acidi biliari e permette la formazione degli acidi biliari secondari, quindi da un punto di vista metabolico ha questa funzione fondamentale ed è per questo che viene considerato come uno dei fattori chiavi per mantenere l'omeostasi metabolica del nostro organismo. Oggi tuttavia vi parlerò principalmente di un'ultima branca che si è occupata dello studio del microbiota che è quella delle neuroscienze in quanto il microbiota intestinale riesce in un certo qual modo a influenzare il comportamento e come potete immaginare quindi come funziona il nostro cervello e la fisiologia delle cellule neuronali. Vi siete mai chiesti come acquisiamo il microbiota intestinale? Bene, il microbiota intestinale viene principalmente, dico principalmente perché è un po' dibattuto, acquisito alla nascita e uno degli elementi fondamentali per la composizione del nostro microbiota è il tipo di parto. Un parto naturale farà sì che il feto attraversi il canale vaccinale della mamma, quindi quello che accade è che il bambino inizialmente assume il microbiota che è presente nel canale vaccinale, mentre se facciamo un taglio cesario il bambino non passa naturalmente attraverso il canale vaccinale e quello che accade è che avrà un microbiota che è principalmente caratterizzato da specie presenti sull'epidermide oppure presenti nell'ambiente e da contaminazioni degli operatori sanitari. Bene, questo in realtà ha una rilevanza perché il microbiota a livello del canale vaccinale è quello che possiamo definire più giusto o comunque più sano per permettere uno sviluppo ottimale del feto e del bambino stesso. Di conseguenza in vari ospedali in America ma anche in Europa e in Scandinavia quello che fanno è per fare in modo che i bambini nati per parto cesario abbiano un microbiota il più simile possibile a quello del canale vaccinale della mamma passano del cotone a livello dei fluidi vaginali e lo strofinano sulle manine, sulla faccia e sul corpo del bambino. Un altro elemento importantissimo è l'allattamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce sei mesi di allattamento al seno. L'allattamento al seno fa sì che parte del microbiota che è presente nel latte della mamma, che è costituito principalmente da bifidobacterium, riesca a entrare in contatto con il microbiota intestinale in maturazione nel bambino. Nonché il latte della mamma contiene anche degli oligosaccaridi che funzionano appunto come prebiotici, ossia come sostanze che riescono a rimodellare il microbiota del piccolo. I bambini invece che vengono allattati con un latte in polvere hanno una composizione differente e sono stati fatti degli studi e dobbiamo dire che bambini nati per parto cesario oppure allattati con il latte in polvere sembrano avere un rischio maggiore di sviluppo di certe patologie del sistema immunitario come per esempio malattie autoimmuni oppure dermatite atopica ed allergie. Quindi quello che succede proprio durante la vita perinatale è fondamentale non solo per il microbiota stesso ma per la salute generale del bambino. Gli antibiotici. Il microbiota è principalmente formato da batteri. Come sapete gli antibiotici quello che fanno eliminano i batteri. Non lo fanno solo con i batteri cattivi, lo fanno anche con i batteri buoni del microbiota. Di conseguenza se un microbiota immaturo come quello del bambino viene a contatto con degli antibiotici questo può avere un effetto molto negativo per lo sviluppo del sistema immunitario ma anche da un punto di vista metabolico. Sembra che ci sia associazioni con un incremento nell'indice di massa corporea nei bambini che durante il periodo perinatale sono stati trattati con elevate concentrazioni di antibiotici e questo diciamo è perché si cerca di non prescrivere molti antibiotici soprattutto ai bambini piccoli. Infine abbiamo altri fattori che andranno come potete immaginare a influenzare il microbiota del bimbo e che dipendono dalla mamma stessa quindi l'indice di massa corporea della mamma perché come vi dirò il microbiota è differente nelle persone sovrappese e nelle persone magre oppure anche fattori di stress e questo è stato osservato in studi nei primati. Infine anche se è un po' dibattuto sembra che alcuni batteri possano essere trasferiti a livello del feto direttamente nella pancia della mamma e questo avviene attraverso la placenta e il liquido amniotico. Vi dico che è dibattuto e è in discussione perché molti medici non credono a questi studi tuttavia sembra che una piccola quantità di batteri sia già presente durante la vita fetale. Quali sono i principali determinanti del microbiota nell'adulto? La dieta sicuramente. In base a quello che mangiate avrete una comunità di batteri che è predominata da differenti specie. Come vi ho detto i batteri preferiscono quello che è il cibo che noi non diceriamo quindi polisaccaridi complessi, fibre alimentari. Di conseguenza è molto importante nutrirsi di frutta, verdura, semi e così via. Potete anche immaginarvi che le persone che mangiano principalmente zuccheri semplici o grassi e che raggiungono un elevato peso corporeo hanno un microbiota differente rispetto alle persone magre e questo è stato dimostrato. C'è un differente rapporto tra filum di batteri che vengono detti firmichiuti e bacteroidites. Nelle persone obese i firmichiuti risultano essere in maggiori quantità mentre i bacteroidites diminuiscono viceversa nelle persone normo peso e questi batteri sono sensibili al dimagrimento quindi se le persone dimagriscono si ristabilisce questo ratio. Come avviene la maturazione del microbiota intestinale? Quindi abbiamo detto alla nascita abbiamo l'inizio del nostro microbiota poi immaginatevi che nel passaggio da una dieta liquida a una dieta solida quindi con lo svezzamento si avrà l'introduzione di nuove specie batteriche e infine nell'adulto avremo quello che è un microbiota completamente maturo. Il microbiota maturo è stabile questo significa che è più risaliente a shift che possono essere dovuti a perturbazioni come antibiotici infatti non è che quando siamo adulti e prendiamo degli antibiotici stiamo malissimo semplicemente possiamo prendere un probiotico ci viene detto dopo un trattamento antibiotico prendete dell'enterogermina del codex ma il nostro microbiota il core principale è saldo e di conseguenza dopo che c'è stata una perturbazione ritorna nelle sue condizioni normali. Nell'anziano invece ritorniamo a una situazione più simile a quella dell'infanzia dove il microbiota diminuisce la sua ricchezza cioè diminuisce il tipo di batteri che sono presenti e risulta essere più labile. Quello che hanno notato gli scienziati è che questo sviluppo del microbiota va di pari passo con lo sviluppo post natale del cervello. Il cervello è un organo molto particolare da un punto di vista dello sviluppo. La maggioranza dei vostri organi completano il loro sviluppo a livello embrionale e fetale. Quello che accade dopo la nascita è principalmente un accrescimento ma questo non vale per il cervello. Il cervello va incontro ad un vero e proprio sviluppo post natale e questo è dovuto a vari fenomeni per esempio si hanno fenomeni di mielinizzazione, fenomeni di sinaptogenesi, fenomeni di riprocessamento e raffinamento dei circuiti sinaptici e tutto questo avviene proprio in parallelo con lo sviluppo del microbiota. Di conseguenza gli scienziati si sono chiesti. È possibile che ci sia una connessione tra quello che accade durante lo sviluppo post natale del cervello e lo sviluppo del microbiota ovvero il microbiota può andare a influenzare le traiettorie di sviluppo e alla fine il nostro comportamento? La risposta è sì. Il primo studio è stato fatto in topolini in Giappone. Sono stati utilizzati dei topi molto particolari che vengono definiti germ free. Questi sono dei topolini che non contengono un microbiota cioè sono completamente sterili. È come se fossero dei topolini che vivono in una sorta di bolla asettica. Quello che hanno osservato questi scienziati giapponesi nel 2004 e questo diciamo che è stato uno studio seminale perché è proprio da questo studio che sono partiti tutti gli altri è che questi topolini germ free quando vengono sottoposti ad uno stress hanno una risposta abnorme rispetto ai topi che hanno un normale microbiota. E quello che loro hanno visto è che questo effetto di stress abnorme può essere restaurato cioè i topolini possono ritornare ad una condizione normale se vengono colonizzati con dei batteri quando sono giovani quindi durante il periodo di sviluppo post natale del cervello. Mentre se questo esperimento viene ripetuto nel top adulto non si ha più quello che è la restaurazione del comportamento. Inoltre è stato visto che topolini che non hanno il microbiota quindi topolini sterili hanno una risposta all'ansia inferiore rispetto invece ai topolini normali cioè se voi prendete un topo e lo mettete in una scatola in cui lui non è mai stato il topolino è un animale abbastanza pauroso e ansioso preferisce stare negli angoli. Questi topolini invece che non hanno microbiota quindi sono completamente sterili quando vengono messi nell'arena viene chiamata non soffrono ansia cominciano a muoversi esplorano e anche in questo caso si può restaurare il comportamento di questi topi tramite un inoculo di batteri precoce cioè durante lo sviluppo post natale. Infine è stato visto che i topolini sterili sono un po' asociali. I topolini sono come l'uomo sono degli animali molto sociali cioè se prendiamo i due topolini che non si conoscono e li mettiamo assieme quelli cominciano ad orarsi a giocare assieme. I topolini senza microbiota invece sono asociali cioè non si interessano dei loro compagni. Ci sono tutta un'altra serie di studi che dimostrano come il microbiota intestinale possa andare a influenzare il comportamento e dopo questi studi negli animali gli scienziati si sono focalizzati sull'uomo, gli scienziati e i clinici chiaramente. Quello che è stato visto è che nell'uomo c'è una certa comorbidità tra certi disturbi del tratto gastrointestinale e certi disturbi neuropsichiatrici. Comorbidità significa che c'è un'associazione e questo è stato visto per esempio per la depressione. Molto spesso i pazienti depressi soffrono anche di disturbi gastrointestinali, magari hanno della flatulenza, della diarrea ed è stato osservato che il microbiota di certi pazienti depressi è differente rispetto a quello dei pazienti normali e addirittura è stato osservato che se il microbiota di questi umani depressi viene trasferito nei topolini questi cominciano ad avere un comportamento simil depresso. Quindi un'ulteriore diciamo evidenza al fatto che ci possa essere una connessione tra il nostro tipo di microbiota e alla fine il comportamento. Nell'autismo vale la stessa regola, anche qui c'è un'elevata comorbidità tra disturbi del tratto gastrointestinale e comportamento autistico. Addirittura è stato osservato che maggiore è il disturbo del tratto gastrointestinale, peggiore è il comportamento autistico. In diversi tipi di autismo questo è stato osservato e addirittura è stato fatto un esperimento molto recente in Arizona in cui è stato trasferito il microbiota di bambini normali in bambini autistici. Questo trasferimento ha fatto sì che ci fosse un rimodellamento nel microbiota del bambino autistico e non solo questo, anche un miglioramento a livello dei disturbi comportamentali. Infine anche nell'Alzheimer e nel Parkinson è stato osservato che si hanno delle alterazioni a livello del microbiota e i topolini sterili, cioè quelli germ free che vengono prodotti con delle mutazioni per lo sviluppo di Alzheimer e Parkinson stanno meglio, cioè sviluppano più lentamente rispetto ai topolini normali i sintomi del Parkinson e dell'Alzheimer. Un'altra evidenza importante per convincervi che il microbiota può avere un effetto sul comportamento del cervello è quello dei probiotici. Probabilmente sapete che cosa sono i probiotici perché sono molto di moda e spesso vengono prescritti anche dai medici. I probiotici sono degli organismi vivi, possono essere batteri, possono essere lieviti, che quando ingeriti in quantità adeguate esercitano un effetto benefico sulla salute dell'organismo ricevente. Non sappiamo bene quale sia il meccanismo d'azione di questi probiotici. Quello che sappiamo è che quando vengono assunti probabilmente c'è una sorta di rimodellamento nella composizione del microbiota, viene forse spinto lo sviluppo di determinate specie o comunque il loro accrescimento e questo può avere un effetto positivo. È un effetto positivo che è stato osservato non soltanto per i sintomi di tipo gastrointestinale, probiotico può essere importante per esempio durante un periodo di diarrea, durante periodi di stipsi, per persone che hanno morbo di Crohn e così via, ma addirittura ci sono degli studi che dimostrano come il probiotico possa avere un effetto sull'ansia nell'uomo e addirittura c'è uno studio che dice che lo Yakult per quattro settimane ha un effetto positivo sugli studenti di medicina durante il periodo d'esame che si sentono molto sotto stress. Quindi forse qualcuno vuole prendere un po' di Yakult. A questo punto spero di avervi convinto che ci sono delle evidenze che dimostrano come la microflora intestinale vada a influenzare il funzionamento del cervello. La domanda principale è quali sono però i circuiti coinvolti e quali cambiamenti avvengono nel cervello e quello che io cerco di fare nelle mie ricerche è proprio questo, cercare di comprendere quali sono i circuiti neuronali e studiare come e se il micropivota può avere degli effetti su una particolare proprietà del cervello che viene definita plasticità neuronale. Che cos'è la plasticità? Quando parliamo di un oggetto plastico immaginiamo che sia un oggetto malleabile, cioè che può essere deformato o cambiato. Il cervello ha questa proprietà molto affascinante che prende il nome di plasticità neuronale, ossia i suoi circuiti hanno la capacità di modificarsi in risposta all'esperienza e in risposta a stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Questa plasticità è massima durante il periodo postnatale, quindi il giovane, il bambino, è più plastico rispetto all'adulto e questo è facile da comprendere. Sapete benissimo che è molto più semplice per un bambino imparare a suonare il pianoforte rispetto a quanto non lo è per un adulto. È più semplice per un bimbo imparare una lingua straniera, per noi adulti è molto più faticoso e questo perché i suoi circuiti neuronali sono molto più plastici, ossia riescono a rimodellarsi, le sinapsi si formano, si spengono e questo fa sì che l'apprendimento, che non è altro poi che un effetto delle alterazioni sinaptiche a livello dei circuiti possa avvenire in maniera ottimale, in maniera veloce. Ci sono vari fattori che vanno a influenzare la plasticità neuronale. Stimoli provenienti dall'ambiente esterno, possiamo avere fattori genetici. Quello che facciamo nel nostro laboratorio è cercare di capire se stimoli che provengono dalla periferia del nostro organismo possano influenzare la plasticità neuronale e in particolare ci focalizziamo su nutrizione e microbiota intestinale e oggi vi racconto la storia riguardo al microbiota. A questo punto la domanda che avete è ma com'è possibile studiare la plasticità nel cervello? Ci sono diversi modi. Quello che noi abbiamo scelto è il sistema visivo. Perché il sistema visivo? L'uomo è un animale visivo. Pensate, se voi doveste perdere uno dei cinque sensi, quale non vorreste mai perdere? Probabilmente la visione, perché noi siamo animali visivi, il nostro sistema visivo è molto sviluppato. Il sistema visivo dell'uomo è anche probabilmente il sistema sensoriale più studiato e più conosciuto e questo può essere facilmente studiato anche nell'animale e per studiare la plasticità del sistema visivo si utilizza una sorta di trucchetto molto semplice che prende il nome di deprivazione monoculare. E come facciamo a fare questa deprivazione monoculare? Chiudiamo l'occhietto all'animale. Che cosa accade? Qual è il fenomeno di plasticità che viene smascherato da questa modificazione? Si chiama plasticità della dominanza oculare e funziona in questo modo. La vostra corteccia visiva si trova nella zona occipitale del cervello. Il vostro occhio destro manda informazioni principalmente a livello della vostra corteccia sinistra e questo perché, come sapete, la maggioranza degli assoni si incrociano, ok? Mentre il vostro occhio sinistro manderà informazioni principalmente alla vostra corteccia destra. Chiaramente non c'è un incrocio del 100%, avremo sempre alcune fibre provenienti dall'occhio sinistro che vanno a livello della corteccia sinistra e così via. Se prendiamo un topolino giovane e gli chiudiamo un occhietto per un determinato periodo di tempo, anche molto breve, per tre giorni, voi potete immaginare che se chiudiamo l'occhio destro la sua corteccia sinistra per un certo periodo non riceverà input visivi da questo occhio. Se andiamo a registrare dopo tre giorni di deprivazione, cioè riapriamo l'occhietto e andiamo a registrare le risposte della corteccia visiva sinistra, quindi contralaterale all'occhio deprivato, quello che accade in un topolino giovane è che i neuroni che prima rispondevano principalmente all'occhio destro cominciano a rispondere principalmente agli input provenienti dall'occhio sinistro. Quello che fanno è spostano la loro dominanza oculare. Prima erano dominati dall'occhio destro, adesso che questo è stato chiuso cominciano ad essere dominati dall'occhio sinistro e questa viene definita plasticità della dominanza oculare e spostamento della dominanza oculare. Quindi se qui guardate nel giovane la linea verde chiaro si ha questo spostamento verso il basso dell'indice di dominanza oculare che viene ottenuto tramite specifiche registrazioni nella corteccia e qui abbiamo plasticità. Come potete vedere, come vi ho detto, come accade nell'uomo anche nel topolino, con il passare degli anni la plasticità diminuisce. Infatti se voi guardate nel topolino adulto, anche se chiudete un occhietto, questo effetto plastico non è più presente, ossia prima e dopo la deprivazione i neuroni continueranno sempre a rispondere all'occhio contralaterale. Perché utilizziamo la plasticità di dominanza oculare per fare i nostri studi? Ha delle caratteristiche particolari e molto vantaggiose. Intanto l'induzione nell'espressione della plasticità avvengono nella stessa area cerebrale che è la corteccia visiva primaria. Ci sono conseguenze comportamentali chiarissime, cioè possiamo o tramite esperimenti comportamentali o elettrofisiologici andare a osservare questo spostamento della dominanza oculare nei neuroni corticali visivi. Inoltre è massima durante lo sviluppo, in particolare c'è un picco che si chiama periodo critico, in cui questa plasticità si esprime nella maggior quantità. E inoltre una caratteristica importante è che la plasticità di dominanza oculare non esiste nell'adulto. Di conseguenza il nostro è un sistema molto robusto per cercare di studiare come promuovere la plasticità. Se pensate all'ippocampo e quindi all'apprendimento, un po' di plasticità è presente anche nell'adulto, non è che l'adulto non impara più niente, oppure alla corteccia motoria, non è che non imparate ad andare in bicicletta, magari è più difficoltoso, ma imparerete ad andare in bici o a sciare o a suonare il pianoforte. Ecco, per la plasticità del sistema visivo questa cosa non accade. Quindi quando la plasticità è chiusa può essere riaperta solo utilizzando delle tecniche molto particolari, quindi in generale il circuito si è stabilizzato. E infine possiamo studiare vari aspetti della plasticità dal funzionale allo strutturale, appunto come variano le sinapsi al molecolare, ossia come variano le molecole all'interno dei neuroni. Mi immagino che vedere quest'immagine vi abbia evocato questa, ossia il bambino con il patch. Il patch che viene messo nel bambino quando ha l'occhio pigro si fonda proprio sugli studi di plasticità di dominanza oculare. Quindi quando noi facciamo il nostro studio di plasticità in un certo qual modo possiamo applicarlo appunto alla correzione, alla guarigione dell'ambliopia, però gli effetti che noi troviamo e i meccanismi che riusciamo a scoprire in realtà sono più vasti, ossia gli scienziati come sapete cercano dei modelli, quindi il nostro modello può poi essere applicato in maniera più ampia ad altri problemi che sono connessi con la plasticità, quindi per esempio epilessia, ictus, disturbi neurodegenerativi e così via. Ma cosa c'entra il microbiota con la plasticità del sistema visivo? Finora abbiamo sempre parlato di comportamento e di emozioni, questa volta invece cosa facciamo? Andiamo a guardare un sistema sensoriale che finora nessuno aveva mai studiato e per cercare di comprendere come la plasticità del sistema visivo sia connessa al microbiota intestinale abbiamo utilizzato un paradigma particolare che prende il nome di ambiente arricchito. Che cos'è l'ambiente arricchito? È proprio questo, una gabbia in cui all'interno sono presenti dei giocattoli, delle ruote, dei tunnels, dei tubicini, dei giochi che gli animali utilizzano e questo fa sì che si abbia un incremento nelle stimolazioni, non solo del sistema visivo, stimolazioni somatosensoriali, un aumento dell'attività fisica volontaria. Inoltre i topi sono in queste grandi gabbie, in gruppi molto grandi e di conseguenza aumenta anche l'interazione sociale. Inoltre l'ambiente arricchito ha un effetto positivo su diversi modelli animali di malattie del sistema nervoso centrale come diverse malattie neurodegenerative, l'Alzheimer, il Parkinson, malattie del neurosviluppo come la sindrome di Rett, l'epilessia e l'ictus. Quello che fa l'ambiente arricchito non è altro che promuovere la plasticità. Come vi ho detto l'animale adulto non è plastico, mentre l'animale a giovane è plastico, quindi mostra lo shift di luminanza oculare. Se noi mettiamo un topo adulto in ambiente arricchito il suo cervello diventerà plastico. A questo punto ci siamo chiesti quali siano i meccanismi per la plasticità. In realtà sono stati fatti diversi studi sull'ambiente arricchito. Lamberto Maffè che molti di voi conoscete ha studiato i meccanismi della plasticità indotta nella corteccia visiva dall'ambiente arricchito. Tuttavia finora nessuno si era mai chiesto se segnali provenienti dalla periferia potessero avere un'influenza. Non è una domanda sorprendente perché se ci pensate bene l'ambiente arricchito non è un paradigma che porta beneficio soltanto al cervello. L'animale gioca quindi ci sarà attività fisica, ci sarà un miglioramento a livello del sistema muscolare, a livello del metabolismo. Quello che noi ci siamo chiesti è chissà se l'ambiente arricchito va a modulare la microflora intestinale di questi animali. Quindi quello che abbiamo fatto è stato allevare un gruppo di topi in arricchimento e un gruppo di topi in condizioni standard. Cioè queste sono le gabbie classiche in cui i topolini vengono messi generalmente in laboratorio quindi non contengono giocattoli, hanno soltanto il materiale per fare il nido. Abbiamo valutato la composizione del microbiota e ci siamo resi conto che il microbiota degli animali arricchiti è diverso rispetto a quello degli animali che vivono in condizioni standard. A questo punto la domanda è stata ok se il microbiota è diverso forse invia dei segnali al cervello e parte di questi segnali possono contribuire alla plasticità che noi osserviamo nell'animale arricchito. Per rispondere a questa domanda abbiamo effettuato un protocollo classico, un esperimento molto semplice. Come abbiamo detto il microbiota intestinale è costituito principalmente da batteri quindi abbiamo messo gli animali in arricchimento però nel biberon abbiamo messo un cocktail di antibiotici ad ampio spettro. Quello che ha fatto questo cocktail di antibiotici non è stato altro che andare a manipolare il microbiota di questi animali. A questo punto dopo la manipolazione ci siamo chiesti il protocollo di deprivazione monocolare funzionerà o non funzionerà? Quindi abbiamo effettuato un esperimento abbiamo chiuso l'occhietto all'animale per tre giorni e siamo andati a vedere che cosa accadeva. Come vedete in un adulto arricchito in condizioni normali cioè quando beve l'acqua si vede questo incremento di plasticità. Tuttavia se l'animale adulto arricchito beve il cocktail di antibiotici la plasticità viene completamente prevenuta. Questo è stato un esperimento molto interessante per noi. Ci siamo chiesti sì ok ma magari ci sono anche degli effetti off target di questi antibiotici. Proviamo a fare il contrario. Prendiamo il microbiota di un animale che vive in arricchimento e trasferiamolo in un animale che vive in condizioni standard che generalmente non è plastico e vediamo se è possibile in questo caso indurre la plasticità. Abbiamo effettuato un esperimento classico che prende il nome di trapianto fecale ed è proprio quello che vi immaginate. Il microbiota a livello intestinale viene poi rilasciato nelle feci quindi quello che abbiamo fatto è stato raccogliere le feci da donatori che vivevano in ambiente arricchito e trasferirle tramite un protocollo di trapianto fecale. Si prepara una sorta di shake con le feci di questi animali fresche e si danno da mangiare a degli animali riceventi standard che generalmente non sono plastici. Quello che noi abbiamo visto dopo tre giorni di deprivazione monoculare in questo topolino che aveva un nuovo microbiota intestinale, chiaramente abbiamo aspettato che ci fosse l'attecchimento del nuovo microbiota, comunque non è un esperimento così schifoso come pensate perché i topi sono coprofagici quindi mangiano le loro cacchette normalmente, semplicemente gli abbiamo dato un microbiota proplastico. Quindi quello che è successo dopo i tre giorni di deprivazione monoculare in questi topi che generalmente non mostravano plasticità è che nei topi trapiantati si osserva lo shift di luminanza oculare cosa invece che come ci aspettiamo non si osserva negli animali di controllo. Quindi in conclusione quello che noi abbiamo osservato finora è che dei segnali provenienti dal microbiota intestinale contribuiscono alla promozione di plasticità che viene indotta dall'ambiente arricchito. Quindi il topo standard prima del trapianto non mostra plasticità. Il topo arricchito invece che gioca e va sulla ruotina mostra plasticità. Se noi trasferiamo il microbiota di questo topolino arricchito nel topolino standard che inizialmente non era plastico riusciamo a promuovere la plasticità della dominanza oculare. Ma quali sono le possibili implicazioni di questa scoperta? Allora intanto punto primo il microbiota intestinale non influenza soltanto i circuiti che sono correlati con le emozioni ma anche altri circuiti neuronali che sono quelli dei sistemi sensoriali. e secondo si possono alterare i processi di plasticità neuronale. Quindi quello che fanno questi segnali vanno a cambiare i circuiti del cervello. E questo non avviene probabilmente solo per la plasticità di dominanza oculare ma possiamo pensare di estrapolare questo per altri sistemi, per esempio disturbi neuropsichiatrici, disturbi del neurosviluppo, malattie neurodegenerative e possiamo pensare che questo microbiota arricchito proplastico possa funzionare come una sorta di probiotico. Cioè possiamo andare a individuare quali sono i batteri specifici che vengono sviluppati in maniera abbondante dai topi che vivono in ambiente arricchito e utilizzarlo come se fosse un probiotico con degli effetti benefici probabilmente non solo sui topi ma io spero poi alla fine anche sull'uomo. Un postbiotico? Perché il probiotico non... Esistono già, nella categoria dei postbiotici esiste già, sono matrici probiotiche riferimentate e poi praticamente... Sì, 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 poi dipende da come uno lo va alla fine a sintetizzare diciamo, sì, posto, probiotico oppure un altro nome molto on fashion ultimamente è psico-biotico, se vogliamo. Sì, allora a questo punto spero che di avervi lasciato questo diciamo take home message. Trattate bene il vostro intestino, i batteri del microbiota perché sono importanti per il comportamento, per le funzioni sensoriali e di conseguenza per la percezione e potrebbero quindi farvi dei brutti scherzetti. Infine, questa è la slide più importante, quella dei ringraziamenti. I ringraziamenti speciali vanno al professor Tommaso Pizzorusso, a Antonino Cattaneo e a Paola Binda. Soprattutto i ringraziamenti sono per Leonardo Lupori e Sara Cornuti che sono dei PhD students della scuola normale che lavorano attivamente su questo progetto, Giulia, Raffaele, Vania Liverani e Antonella Calvello che ci aiutano da un punto di vista tecnico, poi gli studenti dell'università che partecipano, Martina Nasisi e Manuel Tongiani. E infine l'Unione Europea che ha finanziato questo progetto con una Mary-Curie Actions. E grazie per la vostra attenzione. Per quanto riguarda microbiota e microbioma, sappiamo che hanno un loro DNA specifico che è slegato al DNA corporeo, quindi sembra che risulti una scoperta eccezionale che noi non siamo portatori di un unico DNA, ma di più DNA. Questo è importante. E poi un altro aspetto che l'ho visto dal last day, mi è venuta subito l'intuizione. Per quanto riguarda la relazione sociale fra i topolini, quelli che sono cresciuti in ambienti chiusi e quelli aperti, quelli aperti hanno più necessità di giocare, di avere contatto fra loro, mentre invece quello privo di microbioma rimane più isolato. Allora, l'animale privo di microbioma però non vive da solo, vive in una gabbia con altri topolini, semplicemente sono tutti sterili. Appunto, questo secondo me valora la mia tesi, che il microbioma e microbiota attivano dei meccanismi come di dipendenza, cioè hanno bisogno di rinnovarsi e questo li porta ad avere collegamento con altri soggetti portatori di microbioma e microbiota. Cosa che il topolino che è sterile non ha bisogno, infatti non ha contatto, non gioca con gli altri topi. Questo secondo me. Sì, potrebbe essere una possibilità. Comunque, ora giusto per chiarire la differenza fra microbiota e microbioma. Allora, microbiota è l'insieme di tutti i batteri che costituiscono l'ecosistema. Quando parliamo invece di microbioma intendiamo i batteri più tutti i geni che sono contenuti all'interno di questi batteri. Quindi il loro genoma, diciamo, il batteri più il loro genoma. Questa tesi del fatto che il topolino non interagisca perché non ha bisogno di uno scambio, sì, è possibile, credo che sia possibile. Potreste magari farci uno studio o qualcosa così. Certo. È avvantaggio di tutti noi se viene fuori qualche risultato positivo. Sì, sulle interazioni sociali. Io sono un esperto fermentatore, produco i probiotici e devo dare una testimonianza proprio a tutti che da quando assumo questi probiotici ho riscontrato un'elevata accelerazione del processo di pensiero. Riesco ad avere idee, cose che mai avevo immaginato prima, quindi vuol dire che c'è proprio una relazione tra il cervello e il microbiota. Io concludo con questo. Certo, ne sono convinta, mi fa piacere che confermi questa tesi e soprattutto gli studi che sono stati fatti. Sì, ci sono molti studi riguardo ai probiotici, vi ho fatti vedere soltanto alcuni, però questi sembrano avere degli effetti positivi sull'umore, vengono dati anche a pazienti depressi. Ora, è chiaro che è difficile dire che il probiotico possa essere la nuova cura per qualsiasi cosa, ecco, per depressione, per autismo, insomma, è un po' forse avventata come affermazione. Però di sicuro ha degli effetti che possono essere positivi, quindi perché non prenderli, ecco. Sì, grazie per le domande. Io invece avevo una curiosità, una volta che il topolino gli è stato tappato l'occhietto, ha la stessa capacità di movimento e quindi questa diminuzione, questa alterazione del microbiota? Potrebbe essere dovuta al fatto che si muove meno rispetto al topolino che vede con entrambi gli occhi? Ma in realtà non ci sono alterazioni da un punto di vista di movimento dei topolini con la deprivazione monoculare. Ecco, chiaramente non vedono più il 3D, perché non avendo la stereopsi, cioè questa capacità del sistema visivo di vedere gli oggetti in 3D, che è dovuta alla binocularità, cioè entrambi gli occhi, non hanno più questa capacità. Però da un punto di vista locomotorio, e questo è stato osservato anche nei nostri laboratori, da un punto di vista locomotorio comportamentale, si muovono nella stessa maniera. Sì, io sono un pensionato della ricerca oramai, però sono volontario. Dunque, mi è venuto un dubbio che si potesse modulare attraverso i virus batteriofagi le popolazioni di batteri e quindi fare degli esperimenti, siccome i virus batteriofagi, contrariamente agli antibiotici, non hanno un largo spettro, ma il virus batteriofago ha un suo batterio target e attacca soltanto quello e muta dietro quello. Questo è un commento molto interessante e molto intelligente. Diciamo che il trattamento con antibiotico è un trattamento untargeted sui batteri, poi soprattutto sono antibiotici ad ampio spettro, quindi l'esperimento era stato pensato per avere una massiccia, diciamo, distruzione del microbiota in questi animali. Però sicuramente questo può essere un modo più fine e soprattutto può essere un modo per andare a individuare quali sono le specie batteriche. Ora, è difficile che sia una singola specie batterica perché il microbiota, essendo un ecosistema, generalmente non è un unico batterio che fa qualcosa, sono un consorzio di batteri che vivono assieme. Però sicuramente è un esperimento molto molto interessante. Grazie. Sì, un cocktail di faici. Sì, sì, sì. Grazie. Sì, grazie. Certo. Allora, il modo per analizzare la composizione del microbiota è quello del sequenziamento. Cioè, quello che si deve fare è prendere un campione di feci, nell'uomo, io l'ho fatto anche nel topolino, andare a estrarre il DNA batterico e poi viene applicata una tecnica di sequenziamento che si chiama sequenziamento dell'RNA 16S. Quindi questo rRNA è presente a livello di tutte le specie batteriche, è conservato però ha delle regioni che variano da batterio a batterio e di conseguenza si può avere un catalogo dei batteri che sono presenti. Lo fanno per l'uomo anche. Sono delle tecniche un po' ad alto costo, ecco, diciamo così, non sono proprio, non è come fare un'analisi del sangue, ecco, diciamo, è anche un po' più laboriosa, chiaramente, perché devono creare delle librerie, sequenziare il tutto e così via. Però si può avere queste informazioni. Ci sono dei centri che lo fanno anche in Italia, lo fanno a Milano, lo fanno a Bologna, mi pare. Poi, a seconda del tipo di sequenziamento, chiaramente può essere più o meno profondo e quindi si possono avere più o meno informazioni. Allora, per iperistinare un microbiota alterato, allora quello che viene definito è il microbiota disbiotico, probabilmente l'avete sentito nominare. Ci sono diversi modi per farlo. Allora, quando il microbiota è completamente alterato, un esempio chiave è quello dell'infezione da clostridium difficile. Quindi queste persone che hanno un'infezione da clostridium difficile hanno un microbiota totalmente alterato anche dal fatto che sono stati bombardati con antibiotici che, non avendo funzionato, quello che hanno fatto è stato semplicemente distruggere il loro stesso microbiota. Allora, una tecnica che viene utilizzata in questi casi è il trapianto fecale, che è un po' quello che io ho fatto nel topolino. Quindi si prendono le feci di un donatore sano, si fanno chiaramente delle preparazioni particolari, ora non è che si dà direttamente il pezzo di fece, ecco, non è questo, non è proprio questo, però diciamo che si fanno delle preparazioni e questo viene dato al paziente. E in realtà nei pazienti che sono infettati con clostridium difficile e non rispondono agli antibiotici c'è, mi sembra, un success rate del 90-95%, quindi quando viene fatto il trapianto fecale queste persone generalmente stanno meglio. È stato applicato anche per altri disturbi gastrointestinali, tipo il disturbo, il morbo di Crohn, ecco, questi tipi di disturbi intestinali molto forti. Purtroppo diciamo che non è proprio una tecnica a portata di tutti, nella vita di tutti i giorni non può essere applicata, un po' perché ci vogliono anche delle approvazioni da parte di comitati etici che spesso, soprattutto in Italia, non vengono date e così via. Poi è molto laboriosa, inoltre se crediamo veramente che il microbiota vada a influenzare tutto, dobbiamo avere un paziente super sano, quindi che non abbia un disturbo neuropsichiatrico, che non abbia un disturbo metabolico, che non abbia un disturbo del sistema immunitario, cioè una persona sanissima che fa da donatore, perché altrimenti io avevo letto il caso di una signora negli Stati Uniti, dove era stato fatto un trapianto di microbiota e quello aveva cominciato a ingrassare, e questo perché avevano preso un donatore che era sovrappeso. Quindi questo era una conferma del fatto che non è proprio così semplice, non è che il topo diventa obeso, diciamo che però ha comunque delle risposte che sono simili a quelle all'obesità, aumenta magari un po' la massa grassa, ecco ci sono sì una serie di... Sì, sì, perché chiaramente sono dei batteri che straggono in maniera più efficiente, infatti i topolini senza batteri, i germe free non ingrassano, se gli diamo una dieta grassa quelli stanno sempre magri. Quindi sì, questo diciamo che il modo migliore è il trapianto fecale, chiaramente quando il microbiota è completamente distrutto, altrimenti c'è sempre l'approccio dei probiotici e quello di shiftare a una dieta più sana, quindi una dieta con quegli alimenti, la nutrizione diciamo che è diventata la nuova un po' panacea da questo punto di vista, con quegli alimenti che vengono preferiti dai batteri. Infatti se pensiamo che uno dei modi per valutare quanto il microbiota è sano è andare a vedere quanto è ricco, cioè quanta diversità di specie batteriche è presente. Nelle persone che vivono in Africa, in Tanzania, c'è una popolazione che vive come i nostri antenati e quello che loro hanno visto è che queste persone hanno un microbiota molto più ricco rispetto al nostro, nonché hanno bassissima incidenza di tumori, malattie cardiovascolari e tutto il resto, nonché hanno anche un microbiota stagionale, perché seguendo il ritmo delle stagioni si nutrono di diversi tipi di frutti, diversi tipi di semi e in parte di cacciagione, quindi hanno questo microbiota più ricco che anche ha una certa ciclicità nella sua composizione. Scusate, c'è una domanda qua. Ok, due domande in realtà. La prima, forse a questa in parte risposta già durante il talk, però volevo qualche dettaglio in più. Quanto e se è possibile, sì, diciamo, come è possibile quantificare lo shift della prelominanza oculare a seguito di un qualsiasi stimolo in generale, cioè quanto è raffinata la tecnica di quantificazione di questo e in particolare dal punto di vista quantitativo che i risultati avete ottenuto confrontando lo shift della prelominanza oculare dei topolini a cui era stato somministrato il microbiota proveniente da soggetti arricchiti rispetto a soggetti che già di per sé hanno, magari per ragioni anagrafiche, la capacità di avere questo shift della prelominanza oculare. E la seconda domanda è questa. Allora, voi inoculate il microbiota proveniente da soggetti arricchiti, ma c'è un controllo, per così dire, della qualità e della natura di questo microbiota? Sì. Prima, ok, quindi non vi basate unicamente sul presupposto che... No, io li ho chiaro, ora qui non l'ho fatto vedere, ho fatto quello che dicevo a lei, il 16S RNA sequencing, ho sequenziato il microbiota dei topi arricchiti, dei topi standard e dei topi che poi hanno ricevuto. Ok. E sono andata a vedere se il topo che riceve ha poi un microbiota più simile a quello del topo arricchito rispetto a quanto invece non fosse prima del trapianto. Ok, e questi dati raccolti, quindi questo controllo, diciamo, qualità pre-trapianto, possono in qualche modo andare a costituire la base per un ulteriore studio circa la correlazione tra ambiente arricchito e per così dire stimolante e sviluppo di un microbiota più efficiente, diciamo così. Sicuramente, sì, penso proprio di sì. Comunque, chiaramente... Ci sono già molti dati da questo punto di vista? Come? Oppure ci sono già studi sufficientemente? Allora, ci sono degli studi, l'ambiente arricchito, diciamo, è una cosa molto complessa, è caratterizzato da diversi componenti, no? Quindi abbiamo stimolazione somatosensoriale, stimolazione, cioè incremento dell'esercizio fisico volontario. Io, quando ho scritto il grant, chiaramente mi sono basata su questa osservazione preliminare che l'esercizio fisico e l'allenamento vanno a variare la composizione del microbiota, perché chiaramente non avendo dati preliminari, quando l'ho scritto ho detto poiché in questi animali c'è un aumento anche dell'esercizio fisico, mi immagino che l'ambiente arricchito possa in un certo qual modo variare la composizione del microbiota. E così, infatti, è stato. Poi, riguardo alla plasticità di rominanza oculare, ci sono diverse tecniche che possono essere applicate. Quello che noi facciamo è l'imaging del segnale ottico-intrinseco, che è una tecnica simile a quella che nell'uomo è la risonanza magnetica funzionale, ossia si basa sul segnale BOLD, ok? Quello che fa va a vedere come varia, diciamo, l'attività neuronale in base alla variazione di emoglobina ossigenata e deossigenata a livello della corteccia visiva. E quello che noi facciamo è prendiamo l'animale, l'animale è anestetizzato, ha una sorta di anello e la cute è stata, diciamo, aperta, quindi c'è accesso al cranio, non abbiamo fatto una finestra comunque, e quello che facciamo è mostriamo alternativamente all'occhio destro e sinistro degli stimoli e andiamo poi a registrare le risposte della corteccia alternativamente all'occhio destro e all'occhio sinistro. E poi viene fatto un ratio praticamente della riflettanza che otteniamo. Un'altra tecnica che veniva utilizzata di più in passato era invece proprio andare a registrare i potenziali visivi evocati. In questo caso si fa proprio una finestra a livello della corteccia visiva, si inserisce un elettrodo e lì si misura direttamente la risposta elettrica del neurone. È una sorta, diciamo, di elettroencefalogramma però che viene fatto fisicamente, precisamente a livello della corteccia visiva binoculare. Quindi in realtà questi sono degli studi, sono delle tecniche molto ben stabilite, sono delle tecniche classiche che vengono utilizzate in tutto il mondo. Cioè non l'abbiamo inventato noi. Avrei una domanda, intanto molto interessante, complimenti per la conferenza. Poi la domanda è, avete fatto un disegno sperimentale interessante cambiando appunto, passando dai topolini diciamo sterili eccetera eccetera, ma avete provato la sinergia nel variare il tipo di alimentazione oltre che il bioma? Per questo sarebbe interessante se c'è un effetto, diciamo, di potenziamento, insomma, amplificatore. Certo, sì, questo è sicuramente un elemento fondamentale. Si sa che cambiare il tipo di cibo fa variare il microbiota. Uno dei classici è appunto la dieta grassa, anche nel topolino la dieta grassa porta proprio a questo shift nella composizione che è simile a quello che succede nell'uomo. Noi non abbiamo, io in questo lavoro non ho cambiato la dieta, quindi loro stanno tutti utilizzando la solita dieta. Sto facendo un altro studio in cui mi occupo di digiuno, quindi guardo che cosa succede quando mangiamo o non mangiamo e come varia la plasticità di dominanza oculare e lì ho visto che chiaramente il digiuno quello che fa è promuovere la plasticità di dominanza oculare nell'adulto. Però non sono andata a vedere come varia il microbiota in questi animali. Tuttavia mi immagino che sì, che il microbiota possa anche in questo caso influenzare il cervello e quindi contribuire agli effetti della plasticità. Dei probiotici? No, nella mia orientazione dopo che se l'hai condizionato avendo il giusto... Quindi cambiare la dieta del topo. Allora, ci sono degli studi che fanno vedere che l'intermittent fasting, che è praticamente il topo mangia un giorno sì e un giorno no, questo fa variare la composizione del microbiota in questi topi. Ora io non l'ho fatto, comunque è stato fatto da altri. Fa variare la composizione del microbiota e si hanno degli effetti positivi da un punto di vista però comportamentale. Ora la plasticità, proprio vera e propria, non è stata analizzata in questo caso. E anche la restrizione calorica, che è un altro protocollo classico. Ma quando lei parla di trapianto fecale, ritiene sia più corretto farlo tra consanguini o tra fratelli e mamma o ritiene che è aleatoria la scelta di un soggetto sano. E se è un soggetto sano e noi ipotizzassimo un trapianto fecale con una composizione standardizzata, si rischierebbe di standardizzare anche e quindi allivellare il comportamento dei soggetti. Allora, mi immagino che quando parlavi di trapianto fecale, nell'uomo intendi in questo caso. Generalmente viene fatto chiedendo come donatori dei parenti. Allora, quella è la prima linea. Cioè, se c'è un parente sano, generalmente viene chiesto al parente. Questo perché penso che sia un effetto di compliance del paziente. Se ti viene detto che avrai, insomma, il microbiota o mangerai le feci della tua mamma o del tuo fratello, forse è un po' diverso che se è quello di un estraneo. Comunque, è chiaro che se non c'è possibilità, è meglio avere un donatore esterno sano, di cui siamo sicuri che non ci sono, diciamo, alterazioni. Non credo che... cioè, non penso che sia facile dire questo è il microbiota perfetto e quindi livellare tutti nello stesso modo. Anche perché... Forse ha appunto il rischio di livellare troppo che è più rischioso di averlo... Sì, certo. Il rapporto di fantascienza... Sì, sì, no, ora io non credo che... Chiaramente... No, è... Sì, se noi crediamo che il microbiota vada davvero in maniera così diretta a influenzare il comportamento, è chiaro che se viene sempre dato a tutti il solito microbiota, potremmo pensare che il comportamento diventi più simile. Ora, io non ci credo, sinceramente. A parte che non credo che vengano fatte delle... Non credo, diciamo, che si possa dire questo è il microbiota standard e che a tutti debba essere dato quel microbiota per migliorare. Ecco. E questo anche i clinici e gli scienziati non lo credono, perché nessuno ha mai detto questo microbiota è il migliore, diciamo, in assoluto al mondo. E poi un altro punto che va considerato è che c'è comunque un'interazione con l'ospite. Quindi qual è l'ambiente del tuo intestino? Come il microbiota va ad attecchire in quello specifico ambiente? Ci saranno degli scambi metabolici dovuti all'ospite stesso? Quindi se riesci, diciamo, se hai una diversa risposta, non lo so, quando introduci questi organismi a livello del tratto gastrointestinale, che cosa succede nello stomaco? Molti vanno a morire perché non sono resistenti all'acidità dello stomaco e così via. C'è uno scambio continuo, quindi non credo che sia possibile riuscire ad avere il 100% diciamo in tutto. Questa cosa sarebbe possibile solo se fossimo in condizioni come il topo germ free, cioè il topo germ free, lui chiaramente non ha nessun tipo di batteri, i topi germ free sono tutti dello stesso ceppo, molto in bred, quindi composizione genetica simile e chiaramente quando fai il trapianto del microbiota, anche lì non sarà 100% identico, però per la maggioranza rispondono nello stesso modo. Però l'uomo è troppo più complesso, diciamo che c'è l'interazione tra i suoi geni, il microbiota che gli dai, l'ambiente esterno, poi quello che andrai a mangiare dopo e quindi come tu lo andrai a modellare, perché poi quello che tu mangi va a selezionare determinate specie che tendenzialmente cresceranno di più rispetto ad altre. Quindi no, niente roba... Tipo... Romande veloci? Veloci? Seguivo l'aspetto del fatto dell'assunzione delle feci altrui. Questo sugli animali è una cosa naturale, perché spesso vediamo cani e animali che mangiano feci di altri animali. Questo è un meccanismo automatico che hanno nel loro... non so perché noi non abbiamo questo meccanismo. Poi c'è un altro aspetto, si parlava di alimentazione collegata al microbiota. Nei resti dello stomaco di Ozzi, quell'uomo degli acci, è stato rilevato un microbiota migliore di quello nostro ai giorni nostri. Però in quel periodo, circa 3.000 anni fa, l'alimentazione non poteva certamente essere completa come ai giorni nostri. perché nella sacca di Ozzi sono stati trovati dei semi, non è stata trovata una grande varietà di alimentazione, sono stati trovati dei semi, delle cose che è abbastanza semplice, abbastanza esigue. Quindi potrebbe essere il fatto che lo stress che noi acquisiamo ci danneggia il microbiota, anche se noi abbiamo un'alimentazione migliore di quella che poteva essere quella dell'uomo di ghiacci, perché lui praticamente stava meglio come microbiota, non aveva, presumibilmente non aveva stress, e non aveva nemmeno una grande alimentazione, quantità e qualità di alimentazione che potesse incidere su questo aspetto del microbiota nell'intestino. Allora, credo che questa sia una risposta molto complessa. Probabilmente anche lui aveva qualche tipo di stress che è diverso, diciamo, dallo stress che abbiamo noi. Magari aveva lo stress di essere mangiato da un orso bianco, che potrebbe comunque essere un certo livello di stress anche per lui. Allora, diciamo, intanto bisogna vedere che cosa si intende quando si dice che il microbiota di quell'uomo lì era meglio rispetto al nostro. Mi immagino che fosse più ricco, ci fosse una maggior varietà di specie batteriche. Poi se stava meglio o peggio, quello non lo sappiamo. Perché non lo possiamo dimostrare. Vabbè, diciamo che gli scienziati si immaginano che quel tipo di microbiota sia associato, diciamo, a un'omeostasi generale migliore rispetto alla nostra. Ora, che la nostra alimentazione sia più completa e migliore rispetto a quella che ci fosse per l'uomo dei ghiacci o per gli azza people, non lo so. Non facciamo altro che mangiare conservanti, cibi che sono super preconfezionati, artificiali. Carmi con antibiotici. Sì, sì, no. Non lo so, più... È difficile dire cosa è meglio. Perché o riusciamo a mangiare... Intanto, perché sia buona per il microbiota, uno dovrebbe sempre comprare verdura e frutta di stagione. Che penso che fosse poi quello che faceva l'uomo dei ghiacci. Mangiava solo quello che trovava. Che comunque sarà stato un cibo naturale, mi immagino, non confezionato, non pieno di additivi, non pieno di antibiotici. Ma la grande quantità non è positiva, però. Sì, però la disponibilità... Quello penso che sia dimostrato, basta vederlo nella società americana, che la disponibilità e quantità non è positivo, perché la maggioranza della popolazione è obesa. La Valencia in grassi, infatti. E il zucchero. Sì, sì, no, è chiaro. Però non è che secondo me la iperabbondanza aiuta. D'altronde ci sono tutti gli studi sulla restrizione calorica che dicono che meno mangiamo e meglio stiamo. No? E aumentano la... Cioè la restrizione calorica aumenta la longevità. Quindi se noi andassimo a diminuire di circa il 35% le chilocalorie che mangiamo ogni giorno, quindi rimanessimo sempre intorno a 1200... 1000... Probabilmente viveremo 10 anni di più, non lo so. Io voglio portarsi i dolci del tipo diverso. Sì, sì. E' interessante quanto gli studi sono. Certo, sicuramente, sicuramente. Ora, difficile dire qual è il microbiota migliore e qual è quello peggiore. Però quando vengono fatti gli studi e si guarda come vivono per esempio i bimbi di Firenze e quelli del Burkina Faso, quelli del Burkina Faso mangiano tipo 500 kilocalorie in meno, però il loro microbiota è molto più ricco e loro sono molto più sani. Quindi, cioè, forse è difficile a dirsi. Cioè non penso che la nostra società alla fine sia quella che ci ha dato... non è che ci ha migliorato il microbiota, anzi, appunto, ce l'ha peggiorato. Quindi questa disponibilità di cibo non ha migliorato la situazione. Eh, ma quella è perché il microbiota delle persone che vivono, cioè, più vicino alla natura viene selezionato nella maniera migliore, in generale, perché c'è il fitness massimo per riuscire a sopravvivere. Noi alla fine questa selezione non la facciamo praticamente più, perché tutti sopravviviamo, no? Diciamo. Sì, sì, no, ma infatti... Sì, sì, no, sicuramente... Certo, sì, sì, no, ma infatti quello che viene suggerito è di utilizzare dei cibi che siano ricchi di fibre o comunque di polisaccaridi insolubili, che non sono altro che poi la frutta, la verdura, la frutta secca, insomma i semi, cioè tutto ciò che piace al batterio, quindi quello che tu da solo non digerisci è che ha bisogno poi dell'interazione con i batteri intestinali che andranno loro a metabolizzare, perché quando loro metabolizzano fanno un lavoro per noi, ma lo fanno anche per se stessi, perché poi producono anche il loro cibo fondamentalmente per poter sopravvivere. L'ultima cosa, mi sto dicendo in gossip, le tribù quelle africane, dove sono andati gli americani per fare gli studi come i tuoi, hanno preso tutto il loro microbioma e quando sono andati, per gentilezza, le hanno regalato chili di antibiotici. Speriamo che non le abbiano usati. Allora, il mio intervento è questo. Abbiamo avuto una moria nel triangolo dei mammiferi del fin ultimamente, d'orsiopi, dovuto a un'epidemia di morbillo. È stata conclamata che questo epidemia di morbillo è dovuto a un abbassamento del sistema immunitario causato dall'inquinamento dei mari. È quindi ipotizzabile che gli aspetti legati all'inquinamento della nostra società possa abbassare il microbiota e anche l'uso dell'acqua colorata, cioè acqua di rubinetto, che essendo colorata perché diminuisce i batteri all'interno dei tubi dell'acqua, quando non le beviamo immediatamente noi chiaramente abbassiamo sicuramente il livello del nostro microbiota. Quindi questo può essere una causa o con cause dell'abbassamento del nostro microbiota. Il protocollo di malattie legate a disfunzioni del sistema immunitario esiste? Sta incominciando a crearsi un protocollo dove le malattie, mi riferisco a tante disfunzioni legate al sistema immunitario, possono effettivamente, la soluzione dei probiotici può effettivamente aiutare il sistema immunitario a combattere queste disfunzioni stesse. Quando lei parla, sempre domande così, poi mi può rispondere anche con delle battute, semmai ve le ricordo, quando lei parla dei topolini che sono stimolati, hanno più stimoli, vedo i giochi, i giochini, si potrebbero per esempio associare all'uomo ai giardini terapeutici, healing gardens, che sono l'equivalente appunto agli stimoli del topo. Sono giardini terapeutici, si chiamano giardini Alzheimer, che hanno stimoli sensoriali di odori, dell'olfatto, della vista, quindi effettivamente hanno la capacità di stimolare in particolare i percorsi terapeutici i pazienti. Potrebbero aiutare nell'aumentare il microbiota. L'ultima cosa, abbiamo parlato di trapianto fecale, ma c'è una cosa molto più piacevole e meno invasiva, baciarsi fa bene al microbiota? Allora, baciarsi credo che sia dura, riuscire a scambiare il microbiota intestinale con un bacio in bocca, poi non so se volete pensare a altri tipi di baci, fate voi, magari quello diventa più facile, lo so. Certo, magari può essere positivo. Allora, lì penso che ci sia lo scambio del microbiota più che altro orale, più che quello intestinale. Allora, per quanto riguarda l'ambiente arricchito, ecco, questa sì potrebbe essere un'alternativa interessante, perché una delle discussioni aperte riguardo all'ambiente arricchito e all'uomo è come riuscire ad applicarlo all'uomo, perché chiaramente noi viviamo in un ambiente iperstimolato, siamo stimolati continuamente, cioè, da qualsiasi cosa. Poi adesso che viviamo su Facebook, anche lì stimoli magari non così positivi, però, insomma, siamo comunque sempre iperstimolati. Addirittura qui a Pisa hanno cercato, diciamo, di mimare l'ambiente arricchito. C'è un progetto, ora non so se è sempre attivo il Train the Brain, che è sempre attivo, Carmen, in cui... Inizialmente era stato, penso, guidato dal professor Maffei, dove si cercava, diciamo, di mimare un ambiente arricchito per l'uomo, soprattutto per le persone anziane, per cercare di, o che comunque hanno una certa fragilità cognitiva, per cercare di avere un miglioramento nelle loro prestazioni cognitive, evitare magari lo sviluppo di malattie neurodegenerative o di questo tipo. E lì credo che facessero balli di gruppo, allenamenti tutti assieme. Quindi mi immagino che questo tipo di giardini di cui lei sta parlando, sì, possano essere paragonati a quello che è un ambiente arricchito nel topolino. Ecco, riuscire, diciamo, l'idea sarebbe di individuare qual è il fattore o quali sono i fattori dell'ambiente arricchito che hanno l'effetto positivo. Per quello che io dicevo, forse dobbiamo tirare fuori un probiotico, che è il probiotico arricchito, cioè quali sono i batteri che principalmente agiscono in maniera positiva in questo caso, e cercare di fare un probiotico in questo senso e magari con questo probiotico derivante dall'ambiente arricchito cercare di rimodellare il microbiota e quindi avere poi degli effetti positivi in generale, no, sulla salute, poi non soltanto a livello comportamentale. Poi mi ha fatto un'altra domanda che era quella dell'inquinamento, no, sicuramente l'inquinamento altera la composizione del microbiota, questo è stato osservato, probabilmente non lo fa, lo farà magari, visto che c'è un'alterazione del sistema immunitario nei delfini, sono convinta che lo faccia anche attraverso un'alterazione del loro microbiota intestinale, e magari però questo non è stato studiato perché chiaramente ci sono, appunto, mi immagino che ci siano delle difficoltà tecniche, però che l'inquinamento può alterare il nostro microbiota, sicuramente, che l'acqua clorata possa alterarlo, mi immagino, cioè il microbiota è molto sensibile a tutto ciò che noi introduciamo a livello del nostro tratto gastrointestinale, quindi se l'acqua è contaminata, probabilmente sì. Bisogna vedere in che condizioni avviene lo shift, cioè quanto grande è questo shift nella composizione dei batteri e soprattutto il momento anche della vita in cui accade, perché se accade in un bimbo piccolo, che come abbiamo detto ha questo microbiota che è in via di maturazione e quindi non è stabile, magari l'impatto è molto più elevato, così come è elevato l'impatto degli antibiotici, rispetto invece a che cosa accade in una persona adulta, dove il microbiota invece è già più stabile e quindi più resistente a quelle che sono le perturbazioni. Sicuramente bere dell'acqua di qualità elevata, questo viene, penso, suggerito anche dai medici in generale, di non bere acqua che non sia stata filtrata o comunque purificata. Il protocollo sulle malattie immunitarie ci sta spugnando? Sì, sì. Sicuramente il sistema immunitario, io non sono un'esperta di sistema immunitario, però sicuramente il sistema immunitario è uno dei più studiati da questo punto di vista. È stato il primo, diciamo, perché il 70% del tessuto linfoile si trova a livello dell'intestino, quindi è chiaro che c'è un'interazione talmente forte fra l'intestino e il microbiota e infatti comunque i probiotici agiscono anche sulla salute gastrointestinale e di rimbalzo su quella del sistema immunitario. Passo il microfono per quella che direi l'ultima domanda. Ok, quindi la responsabilità dell'ultima domanda. Volevo chiedere se siete già riusciti un po' a identificare i meccanismi con cui il microbiota riesce a modulare la plasticità? Allora, noi ci stiamo attualmente focalizzando sulla microglia, perché quando abbiamo fatto il trapianto fecale in questi animali, negli animali riceventi, abbiamo visto che un gruppo di batteri che attecchiva e che riusciva a essere molto abbondante era quello delle lacnospiracee. Ora, questi batteri quello che fanno è producono acidi grassi a catena corta che derivano appunto dalla fermentazione delle fibre, vengono chiamati anche short chain fatty acids, il propionato, l'acetato e il butirrato. Quindi noi adesso quello che stiamo facendo è testare se questi acidi grassi a catena corta tramite interazioni con la microglia, che non è altro che parte del sistema immunitario locale del cervello, perché la microglia sono i macrofagi residenti nel cervello, possano essere questi proprio responsabili della plasticità che noi osserviamo. Quindi andrebbero a condizionare l'eccitabilità corticale, eccetera, eccetera? Sì, è stato visto che durante i fenomeni di plasticità corticale e anche proprio nella deprivazione monoculare, si hanno delle alterazioni nella conformazione della microglia che può favorire o meno, diciamo, i fenomeni plastici. Ultimissima pila, io studio sonno nell'uomo in particolare, mi chiedevo se il microbiota riesce a modulare, alterare le caratteristiche del sonno. Il sonno è di nuovo implicato nel consolidamento della plasticità e quindi se i due ambiti si possono in qualche modo parlare. Allora, non ci sono tantissimi studi in realtà al riguardo. Sappiamo che il microbiota va a influenzare i ritmi circadiani. I ritmi circadiani sono chiaramente correlati con il sonno. Però proprio studi sul sonno in sé è possibile perché molte di queste malattie a cui il microbiota è stato associato, come la depressione, visto che lei studia nell'uomo, quindi lo saprà meglio di me, molto spesso sono caratterizzati da disturbi del sonno, così come anche l'ansia è caratterizzata da disturbi del sonno. E visto che ci sono tutti questi magari dots che vanno collegati, magari il microbiota può essere anch'esso responsabile in parte o comunque contribuire. Ora, a me piace studiare il microbiota. Io non credo che il microbiota sia responsabile di tutto. Io credo che possa contribuire in un certo qual modo. Poi chiaramente il nostro è un organismo, è molto complesso. Non credo che solo il microbiota possa, diciamo, influenzare il comportamento, il metabolismo, il sistema immunitario e tutto il resto. Ci sono chiaramente vari fattori che influenzano, nonché appunto l'ambiente in cui viviamo poi. Sì. Allora, grazie Paola, grazie a tutti per la bella discussione. All'anno prossimo seguiteci sulla pagina riaperta di Facebook. Grazie. Grazie.